vi metto un gameplay di sottofondo giusto una partita counter strike è della prima volta forse che faccio un commentary sopra un altro gameplay c'è un altro in poche parole, c'è gioco io realmente in questo gameplay che vedete sottofondo però giusto per distrarre o magari uno vuole guardare il gameplay piuttosto che guardare me che non sono una bella cosa da guardare e magari ascoltami, vabbè avete capito ragazzi oggi come da titolo vorrei parlarvi della mia esperienza di quando smisi di fumare smisi ragazzi uso questo termine perché è vero il titolo è sbagliato ma perché ci stava meglio così in realtà io avevo smesso di fumare, non ho smesso di fumare nel senso che ho ricominciato da poco ma non, attenzione non allarmatevi non ho ricominciato, oh mio dio fumo eccetera eccetera ho ricominciato in un modo particolare diciamo che in questo modo particolare ci ho già da oltre un anno però ho smesso anche quello e ora vi spiego con calma vi spiego cosa faccio, come ho smesso e quali sono state le mie conseguenze non so voi ma le mie allora innanzitutto parliamo di quasi un anno e mezzo fa nella sfiga, nella sfiga perché ragazzi molte volte nella sfiga non è tutto marcio ciò che è male non era così il detto però più o meno, avete capito diciamo che nella sfiga ho ebbi un fortissimo, bruttissimo mal di gola che non ho mai avuto così in vita mia ed è stato un bruttissimo mal di gola che mi durò 4-5 giorni una cosa del genere mi sentivo completamente bruciare ho avuto un'infiammazione della gola, credo, molto potente ho preso benagolo, ho preso spray, ho preso un sacco di cose tacchipirine, auline, tutto quello che dovevo prendere per l'antidolorifico al che dopo 4-5 giorni mi passa questo mal di gola ma intanto in questi giorni io non fumavo perché non perché non volevo, non riuscivo però il vizio del fumo è talmente potente che anche se stiamo per morire noi fumiamo ed è una cosa bruttissima quello che sto dicendo ed è vero ed è reale cosa succedeva? io volevo comunque fumare perché era più forte di me ma non riuscivo a mandare giù il fumo per cui ho iniziato a fumare ma non aspirando la sigaretta facevo il tiro, tenevo il fumo in bocca e poi buttavo fuori il fumo esattamente così guarda un accendicolo qua che non trovo l'accendicino accendicino esattamente io ragazzi fumo come i deficienti così ok e questa è già da tanto anzi diciamo fumo così quei giorni poi cosa succede? mi passa il mal di gola ma io dopo che mi passa, cioè in quei 4-5 giorni non so per quale motivo credo che sia comunque una cosa mentale dopo quei 4-5 giorni, al sesto giorno più o meno il mio organismo, il mio fisico si era abituato a fumare così e sono bastati 5 giorni uno dice fumo da 20 anni e smetto in uno è reale ragazzi, è vero io in quei 4-5 giorni ho totalmente, totalmente cambiato l'abitudine al mio organismo che fumavo da 10 anni per cui tra virgolette è stato semplice anche se nella disgrazia con un grosso mal di gola è stato semplice e voi direte look, però cacchio la sigaretta comunque fa più male ragazzi il fumo passivo allora vi spiego, arriviamo a queste cose già per me che fumavo davvero tanto fumavo anche due pacchetti al giorno in quel periodo ero molto stressato eccetera e qua arriviamo ad un altro dunque dopo una conseguenza diciamo che io già togliere l'aspirazione del fumo per me è stato un passo non da gigante ragazzi perché i giganti li schiacciavo in quel momento un passo ancora più grande e cosa è successo? da quel giorno che è stato più o meno un anno e mezzo fa per circa un anno ho completamente fumato in quel modo e per cui non assumendo più nicotina nei polmoni è vero, l'assumevo comunque perché fumando in quel modo comunque sia la nicotina ti entra in bocca e piano piano con l'ingoglio della saliva ti entra nei polmoni vabbè, non è vero perché la saliva non va nei polmoni vabbè, più o meno, più o meno quella cosa lì ragazzi il problema è stato quando poi ho smesso del tutto ho smesso del tutto per un periodo infatti feci un video ultimamente dove vi dicevo ho smesso di fumare ma ultimamente ho ripreso ho ripreso perché ragazzi devo completamente togliere la gestualità ok a me è quello che mi fotte in questo momento la gestualità ho provato con le sigarette elettroniche nulla da fare ho provato con le cose da mettere in bocca come si chiamano i studi cose di legno lì che si vendono al supermercato nulla da fare ho provato con le cicche nulla da fare non ho provato con medicinali o cerotti perché sono tutte minchiate ragazzi la sigaretta elettronica per quanto molti di voi possano essersi trovati bene a me no perché io sono abituato ecco ora ho rovinato la sigaretta tante sono più quelle che sto buttando che altro sto spendendo un sacco di soldi in sigarette ragazzi senza fumare veramente però preferisco in questo modo che rovinarmi la salute perché almeno fino a che non tolgo la gestualità diciamo che io ho il vizio che ho è di tenere la sigaretta in mano di vederla consumare di buttare la cenere di spegnerla o buttarla ok questa è la gestualità della sigaretta per quello che con le sigarette elettroniche non riesco io spero che questo video sia utile a molti di voi che vogliono cercare di smettere di fumare o comunque che capiate quello che sto dicendo ragazzi se cercate o volete smettere di fumare provate a aspirarle meno aspirarle meno e piano piano smettere io per esempio ora fumo molte sigarette in meno e quelle che fumo non le aspiro per cui ho più fiato una volta non riuscivo manco più a fare le scale ora per farvi un esempio molti dicono Luke sono tutte cazzate quelle che si dicono eccetera eccetera il fumo alcune conseguenze so che poi bisogna vedere se in male o in bene sono fare ingrassare nervosismo perché ragazzi l'assunzione di nicotina comunque è una droga per cui avviene poi lo stato dopo quello dell'astinenza del nervosismo io sono stato per parecchi mesi ragazzi e tuttora a un anno di a un anno di eh porca toglia sto termine non mi viene a un anno di differenza a un anno di passato un anno da quel periodo ragazzi sono ancora ogni tanto mi vengono gli schizzi da donna con le mestruazioni nervosismo mi sono informato e dipende anche dalla non assunzione di nicotina perché il mio fisico per tantissimi anni era abituato a questa cosa ora non più e ragazzi ho avuto dei periodacci periodacci litigavo con mia moglie senza motivo andavo in giro volevo picchiare le persone no beh così è esagerato però da che ridevo a che mi incazzavo e tuttora succede ancora ho questi stati d'animo che si sbalzano e dipende appunto da quello fino a che poi l'organismo non si abitui alla nuova gestione ragazzi ingrassare l'ingrassare io se non ci credete a queste cose andate a guardare i video di un anno fa di me io tra problemi problemi personali problemi vitali stress ansia e tante altre cose ero arrivato a pesare 48 kg e lo si può notare in tutti i miei vecchi video vlog io ero magrissimo non che adesso sia un ciccione però pesavo ero arrivato a pesare 48 kg e mangiavo perché mangiavo tanto però io sono una persona molto nervosa sono una persona che non sta mai ferma ha sempre lavorato ha sempre fatto scale sui giù avanti indietro non riesco a stare seduto sono una persona nervosa dentro e questa cosa mi fa che io appena mangio già non assimilo perché già brucio quelle calorie e quelle cose e il fumo di certo non aiutava il fumo mi stava proprio uccidendo perché fumavo 2-3 pacchetti al giorno tra stress mangiavo poco mangiavo tanto ma non assimilavo eccetera eccetera io ero arrivato a pesare 48 kg non è dovuto al fumo attenzione non è perché fumavo sono dimagrito in quel modo c'era un cerchio di problemi all'interno dove il fumo per niente aiutava invece al contrario mi ha aiutato smettere di fumare perché ero arrivato addirittura al punto ragazzi che scendevo salivo le scale e avevo il fiatone non riuscivo più a correre proprio tante cose dovute al punto al fumo quando ho smesso di fumare a un anno di differenza io sono ora in questo momento peso quasi se non qualche chilo in più 70 kg ragazzi da 48 a 70 c'è una grossa differenza ok che io sono alto aspetto ho fatto la battuta ok che io sono basso un metro e 65 sono un po' bassino diciamo però da 48 kg a 70 kg c'è una grossa differenza e questo è dovuto al 100% al fumo perché se non fumo mangio diciamo che quando prima perdevo tempo accendo le sigarette e fumarle ora perdo tempo a mangiare invece che fumare mangio ancora più di prima riesco a correre riesco a fare le scale l'affanno è sceso e tante altre conseguenze ragazzi in bene e in male che mi sono arrivate per cui smettere di fumare se devo fare un calcolo e metterlo sulla bilancia mi ha fatto molto bene questo vabbè credo sia scontato non c'è bisogno di dirlo ora nonostante io le accendo non le aspiro e le butto subito le butto a metà per cui si sto buttando via soldi di sigarette per nulla comunque sto leggermente facendo dei passi oltre cercando di togliere anche la gestualità come dicevo prima e ci sto riuscendo ci sto riuscendo con calma con pazienza qualche schizzo di nervosismo che ancora mi accade però ci sto riuscendo perché perché ragazzi diciamo un punto dicevo una cosa prima si parla di Luke ma ti fa ancora più male il fumo passivo ragazzi sono tutte minchiate potete credermi non credermi non sono un medico per dirlo però l'unica cosa che mi fa male è il fumo in bocca mi rovina veramente la bocca io ho già la bocca rovinata per i cazzi miei il fumo sicuramente non aiuta e sto cercando di togliere questo vizio questa gestualità tra virgolette appunto per quello perché il fumo in bocca non mi va nei polmoni non mi fa male i polmoni ma mi fa male in bocca ed è un'altra cosa gengive arrostate eccetera eccetera comunque conseguenze che già sapete per cui ragazzi vi do un dato vi do un dato sapete che e questo non sono io a dirlo ma ci sono delle delle percentuali di medici esperti a dirlo sapete che fa più male il ora mi darete del pazzo ma è così fa più male il salmone affumicato di una sigaretta ora tutti a darmi contro sicuramente informatevi per cui ragazzi la sigaretta fa male è sconsigliatissima dai medici ma molti medici dicono e provano che le sigarette non fanno così male come si dice sapete che la maggior parte dei cancro e tumori non sono dovute alle sigarette ma dovute magari ai salumi o alle alimentazioni o alle diete non fatte lo sapevate questo informatevi sapete che la maggior parte delle persone che muore di cancro e tumori non fumano e allora lì i medici si sono inventati nel corso degli anni la gente muore di cancro la maggior parte di quelli che muoiono di tumore e cancro non fumano è vero ma lo muoiono perché il cancro e tumore viene per il fumo passivo perché una volta si dava la colpa alle sigarette perché se no come cazzo si fanno i soldi nello stato italiano poi hanno approvato che non sono state le sigarette allora diamo la colpa al fumo passivo ora il fumo passivo non c'entra più nulla dove stiamo arrivando infatti nuove scoperte dicono che la maggior parte dei tumori formati nel nostro corpo derivano da salumi da maiale da molto da cibo dal cibo che noi mangiamo e comunque se questo discorso vorrei approfondirlo in altri video se me lo consentite se mettete un bel like io vi approfondisco questo 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 argomento che mi sto interessando ultimamente grazie anche a degli amici che effettuano questo tipo di cure ragazzi sono giunto alla fine del video un po' confuso non lo so un bacione un abbraccio 12 video dovevo stare più o meno per il gameplay di sottofondo se volete altre informazioni sono lieto di darveli in altri video per cui commentate ditemi la vostra soprattutto nei commenti se avete smesso di fumare e come o se ci state provando o se non ci state provando ascoltatemi almeno provateci perché molti dicono ma io inizio a fumare perché smetto quando voglio non è così ragazzi quando si inizia è difficile smettere se non quasi impossibile e ci vuole una grossa forza di volontà e vi ho fatto notare che io in 5 giorni ho completamente scombustolato il mio organismo e fatto dimenticare 10 anni di fumo in semplicemente 5 giorni ragazzi un bacione un abbraccio al prossimo video e fatemi sapere cosa ne pensate di questa tipologia di video ciao a tutti ciao a tutti